Ragazzi finalmente è arrivato il pacco che aspettavo, Lady Rosa. Vi faccio vedere all'interno cosa ci ho trovato. Le mitiche arance, il melograno e i limoni. Io già so cosa devo fare con queste arance. Come ricetta io andrò a realizzare un sorbetto all'arancia, un sorbetto per le feste. Vediamo come preparare. Ci servirà 300 ml di succo d'arance. Come potete vedere si presenta così, fanno un profumino. E quindi andiamo a ricavare. Prendiamo anche il succo di un limone, quindi lo tagliamo e lo spremiamo. Filtrare il succo e quindi siamo pronti per la ricetta. Mettiamo qua dentro in una casseruola l'acqua, lo zucchero e portiamo a bollore. Trascorso il tempo di bollitura lasciamo raffreddare completamente. E adesso versiamo all'interno di una ciotola lo sciroppo. Aggiungiamo il succo. Bisogna miscelare il tutto con le foste e aggiungete l'albume. Mi raccomando, non buttate la boccia, perché può servire per altri dolci, quindi la congeliamo. Questo è il preparato. Ora lo andiamo a mettere nella gelatiera e dopo vediamo il risultato finale. Come potete vedere questo è il risultato finale. Super cremoso. Eccolo. E ora andiamo a assaggiare. Mettiamo qua dentro. E vi dirò se ne vale la pena. Super buono ragazzi, provatelo. Ovviamente Lady Rosa fa spedizione in tutta Italia. Entro 48 ore. Spedizione gratuita. Spedizione gratuita. Spedizione gratuita. Spedizione gratuita. Spedizione gratuita.